hola hola allora stavi qui mi ero scordato allora l'idea di oggi è da sistemare questo detto lo so deciso e faccio vedere allora qui c'era un'infiltrazione che chiaramente ho sistemato e già l'ho fatta vedere su altri video allora ho delle tavole delle stecche e quelle che ci ho fatto con la griglietta qua sotto del frigorifero le sto tutta a scartavetrale se sto a pulire ma ne ne ho manco pulire però vabbè sto a pulire e ce le voglio mettere lo faccio tutto a doghe e dovrebbe venire uno stile un po' country vabbè mi piace che toghe di legno poi è materiale di recupero cioè non spendo niente ho a sparachiodi la colla già avevo delle vecchiatate perciò con quello che c'ho dentro casa e ora mi invento di sistemare qua sopra perché è brutto ci ho messo la bandiera per non veder brutto ecco qua c'era l'indiano no la bandiera di indiano era mica pure questa però tocca sistemarlo così fanno uno apri apri o dopo funziona ma ci devo rimettere la lucetta qui tanto questo è tutto rincollato per bene sotto le frasi non c'è niente ho aperto ho guardato lato da posto un po' city zero abbiamo ancora un po' di bene ma ci siamo advevo dei fredi va, non no 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 ecco come viene tutto bello liscio so fare tutte queste ci ho fatto e devo fare quelle e dopo che sono queste qua piccoline dovrebbe veniremoci provare faccio l'altra allora dopo il vinaville il vinaville eccolo qua adesso pieno del pisci allora dopo il vinaville bella ambriagata e poi vado a sparachiodi faccio due insieme così perché il vino vi deve fare freddo no vado a sparachiodi eh ecco questa è la parte come sta a venire ovviamente non ho finito eh ma ci vale un po' di tempo eh qua mi devo fare i pezzettini li sto mettere così perché non essendo uguali ma diciamo che l'effetto più o meno è quello che volevo io quasi finito eh mollito lì giù l'ho puntellato chiaramente qui puoi mettere la cornice e non siete più niente ma mancano un po' di toghe qua li ho fatto poi mi serve da mettere qualche pezzettino qui perché era più corto come ho fatti i pezzi come ho fatti qua sotto eh oppure qua ho fatti i pezzetti però è così se vedi sparsato vedi c'è sta dei lavoro il lavoro è quasi ultimato eh per quello che è possibile l'oblo affunge si apre fa luce e questo è come è venuto allora qui si vede qualche punto che è un po' sfallato però mo ci devo mettere la cornicetta se non mettere la cornicetta siete più niente ma d'altronde il legno era questo eh ed è qua fatto uguale eh vabbè diciamo che il risultato era quello che volevo mo sono indeciso solo se dargli un po' di colore o no perché mentre li lascio naturali così io do solo un po' di cera poi mo qua tutto intorno qua così torno così ci voglio mettere tutto un bel cordone di quelli bella corda così che nasconde un po' i macagne gira un po' qua vedi qualche macagnetta c'è perché d'altronde non è che è proprio tutto preciso il materiale è quello che è però l'effetto che volevo io era questo ecco si presenta così vabbè per me è fighissimo e poi sono gusti però io ve lo proprio così rozzo ruspante e mo se mi abbassa devo guardare il legno ci volevo fare i sportelletti qua o se no ce li faccio con tessuto tipo cortato con teletto ora vediamo un po' vabbè comunque il risultato a me piace a me mi piace sono gusti vabbè può essere un'idea comunque è un materiale riciclato non ho speso niente ci ho perso tre ore tre quattro ore alla fine ci può stare no? ha perso qualche ora e comunque ho risorto senza spenne sorti poi oh se mi piace va a staccarlo un attimo cazzo ci vuole mo l'unica cosa se tiene ma penso di sì perché comunque il vino una volta che ha asciugato è vabbè l'Africa una volta che ha tirato è bene c'è stato tutti i chioti sparati sopra l'ho lasciato a pressione tutta la notte perciò penso che penso che va bene e che di vabbè ho fatto ho detto non ho speso un cazzo perché c'è tutta roba che va bene che funzionalità dovrebbe stare ma io al cordino ce lo metto poi quando ci sarà occasione te lo faccio vedere col cordino messo che effetto che fa per ora è tutto alla prossima bel lavoretto no? beh a me mi pare che è un bel lavoretto poi che ti devo dire qui